Prendo quattro da dieci o quindici volte al giorno per il mio mal di schiena, Aperol per stare concentrato, Xanax per allettare la tensione, Erba per rilassarmi, Cocaina per una nuova sferzata e Morfina. Perché è eccezionale. No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.